Salve a tutti! Finalmente ho avuto il tempo di registrare questo benedetto speciale che tutti quanti mi avevate chiesto. Bene, eccomi qui con qualcosa che mi manderà fuori di testa. Ho preparato un piccolo racconto scritto da me che farò scorrere insieme a delle immagini animate per creare l'atmosfera. Il racconto parla di un viaggio intergalattico su Saturno dove il protagonista, che si vedrà a catapult... Chi è? Ho sentito bussare. Chi è? Chi è? We are called. Siamo della società italiana degli autori ed editori. Chi? Siamo un ente che tutela il diritto d'autore. Vorremmo parlare con lei per vari reclami riguardanti violazioni di copyright. Violazioni? Non ne so niente! Le sono state fornite informazioni da YouTube a riguardo. Lei ha violato i diritti d'autore dei seguenti canali. Cistocin, Somska, Mosch, Dorky, IB Family e potrei continuare ancora. Ma erano solamente reclami, non c'è da farne una questione di stato. Se mi fai entrare ne possiamo parlare ragionevolmente. Mi dispiace, al momento non è possibile, sono indaffarato. Non si può recitare. Certo che posso farlo. Questa è casa mia ed è proprietà privata. Decido io chi o cosa può entrare e uscire da questa porta. Se la mette così... Corri Eric! Corri Eric! Corri Eric! Corri Eric! No! 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 Ti prego! Ti prego! Ti prego! Non lo fare! Ehh! Grazie.